Camer, ristrutturazioni di interni, Via Aldomoro 38, Sondrio. Sono ricominciati i campionati di calcio locali, vediamo subito quali sono i risultati di questa prima giornata del girone di andata, partendo dal campionato di promozione. Arcadia Dolzago, Altabrianza, Tavernerio 0-4, Aurora Calcio, Arcellasco 2-2, Barzago, Viberonchese 2-1, Cobb 91, Cavenago 2-3, Cinisello Lissone 0-0, Colico Derviese, Muggio 0-3, Concorezzese, Olimpia Grenta 1-2, Meda, Casati Arcore 1-1. La classifica vede con tre punti Muggio, Barzago, Olimpia Grenta, Altabrianza, Tavernerio e Cavenago, un punto per Casati Arcore, Meda, Lissone, Aurora Calcio, Arcellasco e Cinisello, a zero punti con Corezzese, Viberonchese, Colico Derviese, Cobb 91, Arcadia Dolzago. Passiamo alla prima categoria, Albosaggia Ponchiera, Galbiate 2-3, Ars, Rovagnate, Tiranese 3-0, Bellagino, Olimpic, Morbegno 1-6, Berbenno, Cosio, Valtellino 1-1, Calolfiocorte, Costa Masnaga 2-2, Chiavennese, Polisportivo Oratorio 2-B 1-2, Cortenova, Missaglia Maresso 1-3, rinviata invece la partita, Giovanile, Cantese, Valmalenco. La classifica, tre punti per Missaglia Maresso, Olimpic Morbegno, Galbiate, Polisportivo Oratorio 2-B e Ars, Rovagnate, un punto, Berbenno, Calolfiocorte, Costa Masnaga, Cosio Valtellino, zero punti, Giovanile, Cantese, Albosaggia Ponchiera, Valmalenco, Bellagina, Cortenova, Tiranese e Chiavennese. Infine il campionato di seconda e terza categoria, anche per questa stagione, uniti. Altolario, Valchiavenna 5-0, Atletico Cosio, Pratacalcio 0-3, Dubino Sondalo 16-0, Grosio Ardenobuglio 3-1, Penta Piateda, Sport Club Dongo 1-3, Piantedo Polisportiva Villa 1-1, Delebbio Livigno 4-1, Talamonese Bormiese 0-1. In classifica 3 punti per Bormiese, Altolario, Sport Club Dongo, Grosio, Dubino, Pratacalcio e Delebbio, un punto per Polisportiva Villa e Piantedo a zero punti, invece Livigno, Atletico Cosio, Valchiavenna, Talamonese, Penta Piateda, Ardenobuglio e Sondalo. È tutto, vi ricordo che trovate tutti i risultati e le classifiche sul nostro sito web www.radiotsn.tv nell'area sport.